Buon inizio settimana amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fanno TV. Cominciamo la settimana con tante notizie di cronaca, purtroppo il weekend appena trascorso ne ha prodotte tante e sono veramente notizie molto molto tragiche, molto molto drammatiche, le vedremo poi sfogliando il giornale. Cominciamo il nostro colloquio questa mattina con l'Almanacco, vedendo il Santo del Giorno. Oggi si festeggia Sant'Alfonso Maria dei Liguori, fu vescovo, dottore della chiesa, prorettore dei confessori, fu anche protettore dei moralisti, dei pagani, dei teologi. Compose tra le tante cose, era anche un melomane e compose il noto canto, tu scendi dalle stelle. Questo è Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Diamo un'occhiata anche al tempo. Vediamo che il sole questa mattina è sorto alle 5.56 e tramonterà alle 20.33. E per quanto riguarda l'andamento meteorologico, vediamo che il tempo è totalmente stabile sulle Marche. Cielo sereno, poco più nuvoloso durante la giornata, temperature massime fino a 32-33 gradi. 20 sulle coste in direzione media da est, così come sull'interno. Le temperature dovrebbero essere in leggero calo, ma non ci spererei molto a dir la verità. E cominciamo veramente a parlare delle notizie. Vediamo che due soprattutto emergono, sono due notizie di cronaca drammatiche. Riccione, Civitanova, sono due cittadine accomunate da quanto accaduto nell'ultimo weekend. Vediamo la prima pagina del resto del Carlino, quella nazionale. Sorelle per sempre, Alessia e Giulia Pisano, 15 e 17 anni, travolte da un treno. La nottata a Riccione, poi l'incidente, noi migliore amiche. Vediamo anche la pagina interna, vediamo che ci sono diverse pagine dedicate a questa notizia tragica. Travolte su binari a Riccione, l'ultimo abbraccio di due sorelle. Una ha tentato di salvare l'altra. Alessia e Giulia, 15 e 17 anni, avevano trascorso il sabato notte nei luoghi del divertimento. Doveva essere un sabato così in amicizia, in divertimento, in relax, in riposo. Però si è trasformato in una tragedia. L'ipotesi? Volevano salire su un altro treno e non hanno visto il frecciarossa che è in arrivo. E quindi, attraversando i binari, sono state travolte. Unite fino all'ultimo, Alessia e Giulia, tra selfie e social, noi migliori amiche. La più grande scriveva, credo che mia sorella sia l'unica ragione di vita. Su Instagram, la musica trap, i pranzi al fast food, gli scambi dei regali abitavano nel Bolognese. Il padre gestisce una ditta dei traslochi. Erano due ragazzine spensierate, come ce ne sono tante, che volevano semplicemente passare la loro adolescenza, la loro giovinezza, in serenità. Purtroppo il destino ci è andato di mezzo. E ancora il mistero delle ultime ore. La serata in discoteca e il furto ci hanno rubato ogni cosa. Le due ragazzine erano agitate. Quando sono arrivate in stazione a Riccione, barcollavano, erano spossate. Il padre sapeva che erano in riviera. Si sono sentiti per l'ultima volta al telefono, sabato sera. E poi ancora altre pagine, le vediamo qui sui giornali. Insomma, è una notizia che tiene banco, perché veramente potrebbe essere anche di insegnamento. E vediamo invece l'altra tragica notizia, quella che interessa le marche. Violenza senza fine. Civitanova spunta un altro video. Shock, girato in corso Umberto. Non è bastato l'assassinio di Alika, il nigeriano, che è stato ucciso da una persona, a cui aveva rivolto probabilmente delle espressioni per chiedere l'elemosina. Ebbene, dopo ne è accaduto un altro. È accaduto a pochi metri di distanza. La sera seguente, ebbene, vediamo qui le due fotografie accostate. Sembrano quasi uguali. Sono sempre veramente identiche. Un aggressore sopra la sua vittima. Per fortuna, però, questo secondo incidente non si è risolto così gravemente come il primo. Insomma, la vittima dell'aggressione non è deceduta. Vediamo poi nell'interno veramente che cosa è accaduto. Intanto vediamo anche i titoli, sintesi, delle edizioni delle marche del resto del Carlino. Schiava del sesso, così sonorinata, grazie a un rosario dall'Africa alle Marche, salvata da Donaldo. Si tratta di una ragazza nera che sperava in un futuro migliore. Ancona, tre spaccate in poche ore, arrestato, furti, furti nel capoluogo marchigiano. E poi vediamo a Porto dei Canati, invece, doppia rissa fuori dal locale. Un sedicenne finisce all'ospedale. Mentre, per quanto riguarda Pesaro, un'ampia pagina è dedicata al paglio dei braceri, vinto da Villa Fastigi. Ascoli è fermo, sorelle in bici, travolte da un'auto. Investimento sulla statale a Campofilone. Un 53enne in elicottero a torrette e in gravi condizioni. Apriamo il giornale e diamo risalto a quanto accaduto, appunto, a Civitanova. Questa è la foto dell'aggressore. Si tratta di Filippo Ferlazzo. La versione della compagna. Non ho visto nulla, sono sotto shock. Le parole della donna da dietro le perseane di casa. Mi sono allontanata, ha detto, è successo tutto in pochi minuti. L'avvocato Bizzarri è invalido. L'avvocato Bizzarri, che difende, appunto, Ferlazzo, è invalido al 100% e ha subito diversi TSO. Ad aprile, l'ultimo ricovero in psichiatria. Sembra veramente non essere stato in condizioni psichiche decenti l'uomo che ha aggredito l'extracomunitario. Ferlazzo era invalido al 100%. Ha subito diversi trattamenti di TSO. E ad aprile era stato visitato nel reparto di psichiatria a Civitanova. Questa è una vicenda molto dolorosa. Mi dispiace moltissimo per la moglie e il figlio di Alica, ma è giusto che l'imputato abbia una condanna che tenga conto delle sue condizioni. Così ha parlato appunto l'avvocato Bizzarri, che difende l'aggressore. E poi ancora si tratta di un uomo nato in Austria, ma residente a Salerno. Era stato diagnosticato a lui un disturbo bipolare e borderline. Più volte era stato sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori. E per questo il Tribunale di Salerno aveva nominato sua madre, Ursula, amministratrice di sostegno. Ma perché non era sotto vigilanza? Ci si chiede, un uomo dalle condizioni psichiche così fragili doveva essere tutelato in tutti i sensi, non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il punto di vista appunto dell'ira, del fatto che lui potesse a un certo punto trascendere e diventare irrascibile per quello che stava facendo. L'ultimo grido di Alica, oddio, questo è matto. La testimone ero paralizzata dalla paura. E in questa pagina si racconta un po' perché la gente che era attorno non è intervenuta. In realtà sembra che non ci fosse molta, molta gente attorno. Erano le 14.30 e il Corso Umberto era quasi deserto. Solo quattro persone, di cui due donne. Le donne hanno cercato a voce di dissuadere per quello che stava facendo, ma ovviamente lui gli ha risposto anche in malo modo, come fatti i cavoli tuoi. Insomma, anche se i cavoli non era l'espressione che lui ha usato. Non è vero che ci siamo voltati dall'altra parte. Abbiamo fatto il possibile. Mosconi, gli gridavo di fermarsi. Ho aiutato la polizia. E si tratta di una dichiarazione appunto di Mariano Mosconi, un 56enne impiegato all'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Civitanova che venerdì ha assistito al barbaro omicidio. Dunque bisogna valutare un po' da tutti gli angoli di vista le posizioni di ciascuna persona. E qui vediamo come la follia si ripete poco dopo il delitto. Ancora botte e sangue lungo il corso. E qui abbiamo ugualmente un video shock girato la notte dell'aggressione. Un ubriaco da inescandescenze è stato pestato e immobilizzato. Follia dunque ancora in corso Umberto a Civitanova. Dopo quanto accaduto ad Alica, intorno alla mezzanotte di venerdì, poche ore dopo l'omicidio del nigeriano, due uomini se le sono date di santa ragione e anche qui nessuno sarebbe intervenuto per dividerli. O meglio, qualcuno in realtà si è messo in mezzo ai due contendenti, ma per aiutarne uno ad infierire ancora di più sull'altro, quindi sulla sua vittima. E' quello che si vede da un filmato che è stato poi pubblicato sul sito internet del resto del Carlino. In particolare si nota a un civitanoese, poco più che cinquantenne, molto conosciuto nell'ambiente della marineria, brandire le gambe di un tavolino e con questo usarle come arma nei confronti appunto della sua vittima. Non si conoscono le ragioni esatte per cui i due sono venuti a diverbio. Si pensa a futili motivi, probabilmente ha influito anche un'alterazione provocata dall'alcol. Comunque le indagini sono in corso. Giovane mamma colpita da malore, trovata morta dal figlio sedicenne, è accaduto ad Apiro. Il marito la chiamava da ore, ma senza esito per Elisa Scoop non c'è stato nulla da fare. Era in casa, chiama la mamma, la trova in camera, distesa sul letto, deceduta appunto la figlia. E veniamo alla pagina di Pesaro, dove vediamo un articolo che ci fa da trapasso per fortuna. Ci aiuta un pochino a riflettere dalle notizie tragiche di cronaca che abbiamo appunto presentato in questo momento ad un'altra che è ovviamente più piacevole, quella della festa dei Braceri. La notizia che ci fa da Passepartout è quella dei migliori studenti che hanno superato l'anno scolastico. Il 100 non basta, sono tutti maturi con la lode che festa hanno fatto a Piobbico. Vediamo un attimo, sì, a Piobbico. Sono stati premiati in questa località dall'entroterra 138 studenti. Sono studenti modello della provincia. Era presente il presidente della provincia, Giuseppe Paolini, che ha detto così, coltivate i vostri sogni. Poi c'era anche il poeta Arminio, ma non abbandonate le vostre radici. Sentitevi sempre marchigiani, sentitevi ancorati alla vostra realtà e contribuite allo sviluppo del nostro territorio. Coltivate dunque i vostri sogni. Questo è l'ospicio rivolto dal presidente Giuseppe Paolini ai 138 maturi con lode che ieri si sono dati appuntamento al castello Brancaleoni di Piobbico. Avete concluso un percorso magnifico, ha aggiunto. Il messaggio che vi lasciamo oggi è l'amore per la nostra terra. Belle queste parole appunto del presidente Paolini. E poi seguono tutti i nomi di coloro che hanno avuto questo, che hanno ottenuto questo bellissimo successo negli studi. Un cento e lode. Paglio dei Braceri. Ecco qua la festa di Pesaro. Paglio dei Braceri, il trionfo di Villa Fastigi. La decima edizione si conclude con la prima vittoria dei Biancorossi. Finalmente anche Villa Fastigi ha potuto stringere tra le mani il trofeo. Secondo è giunto Pantano, terzi i campioni uscenti di Santa Maria dell'Arzilla. Ebbè c'è sempre una prima volta. Infatti la contrada di Villa Fastigi ha dovuto attendere ben dieci edizioni del Paglio per trionfare e ha trionfato con un tempo favoloso 3.58.31 migliorando quello ottenuto nella batteria di qualificazione. C'è stata anche un po' di delusione invece per Pantano che è arrivato secondo con il tempo di 3.59 e quindi poco più perché l'altra è 3.58 qui 3.59 e il 72 dopo aver lottato strenuamente ed alternandosi al comando con i vincitori. Quindi è stata una gara testa a testa e però insomma trasportare un bracere di 20 chili per 1200 metri è una grande fatica non è certo facile quindi onore ai vincitori. La Miss Alessia Galeazzi e questa è la bella ragazza che è stata così considerata la bella della festa. Vediamo le pagine di Fossombrone cade in bici sulle Cesane paura per un 39enne il ciclista stava percorrendo insieme al fratello il sentiero Ghost uno dei più impervi dopo un salto è rovinato a terra battendo la testa ed è intervenuto l'elicottero per portarlo all'ospedale di Torrette di Ancona ed è stata un po' difficile la manovra di ancorarlo di portarlo su verso l'elicottero Afano stuprata in giardino giovane in manette è accaduto all'inizio di quest'anno lui ha 22 anni lei il doppio è stato arrestato ad accusarlo è una donna con il doppio appunto dei suoi anni la difesa ovviamente dice che lei era d'accordo i giudici dovranno decidere se veramente c'è stato stupro oppure la donna era consenziente il ragazzo è un 22enne rumeno operaio nel settore della nautica in un cantiere di Fano è stato arrestato a Roma qualche giorno fa pare che si trovasse nella capitale per motivi di lavoro ora però è in carcere a Villa Fastigi l'operaio è assistito dall'avvocato Simone De Marchi e non si è avvalso del diritto della facoltà di non rispondere insomma ha fornito tutta la sua versione tutti i suoi particolari basati appunto sul fatto che la donna era consenziente al rapporto e qua abbiamo invece un articolo che viene dalla pagina di Ancona schiava del sesso per sopravvivere dall'inferno al paradiso con Donaldo si tratta di Maria il nome è così inventato era arrivata dall'Africa per trovare lavoro e mandare soldi alla madre e ai suoi quattro bambini la madre piangeva continuamente perché non riusciva a dar da mangiare sui quattro bambini lei allora è partita è partita per l'Europa con l'intento di spedire dei soldi per aiutare la sua famiglia ma appena giunta in Italia è stata buttata in strada a prostituirsi dentro mi sentivo morta poi la salvezza una macchina si ferma non era un cliente era un sacerdote che dice io ti posso salvare e se prima è subentrato un monito così un sentimento di diffidenza poi in realtà questo rapporto si è consolidato e la donna appunto è stata salvata dalla strada veniamo ora al Corriere Adriatico sulla pagina di Fano si parla dell'opera di Padre Pio attiva ad agosto per gli ucraini di solito la mensa di San Paterniano chiude chiude anche quest'anno nel mese di agosto tuttavia le persone verranno assistite dalla mensa della Caritas nel centro pastorale diocesano di via Roma però all'interno della mensa di San Paterniano permarranno 18 persone giunte dall'Ucraina è un rapporto che la mensa che l'associazione Padre Pio ha stabilito con la prefettura di Pesaro queste persone vengono assistite in tutto dormono nel dormitorio fanno la colazione il pranzo la cena insomma se hanno bisogno di un vestito potranno averlo sono 18 persone che vengono assistite in tutto per tutto dall'opera Padre Pio ma ci sono tanti volontari che si dedicano appunto a concorrere agli obiettivi dell'associazione e uno di queste è Olea Olea l'associazione degli assaggiatori che organizza ogni anno dei concorsi con oli che provengono da tutta Italia ma anche dall'estero ebbene questi campioni sono centinaia sono stati dati nei giorni scorsi e qua vediamo in questa fotografia la consegna al presidente dell'opera Padre Pio Mauro Guerri questi campioni vengono consegnati alla mensa perché è giusto che oli veramente di grande qualità perché sono giunti sono stati spediti al concorso possono essere consumati anche dalle persone che sono in difficoltà sono indigenti oppure hanno incontrato problemi momentanei e quindi una opera veramente significativa un appuntamento per questa sera nella sede di Viviamo il Poderino appunto in questo quartiere il pedagonista il pedagogista Tonucci e l'architetto Massimo Seri alle 21 a Poderino parleranno della città dei bambini a 30 anni dalla idea iniziale Gimarra e Ferrovia fondi per i professionisti il sindaco si premura con 45 mila euro per liti e consulenze è meglio farsi trovare pronti più o meno è questo il ragionamento che deve aver indotto il gabinetto del sindaco ad invocare il prelevamento di fondi di riserva ovvero di 45 mila euro per garantirsi il contributo di professionisti ad altezza su due fronti delicatissimi come la variante di Gimarra dove ovviamente ci sono molte proteste e l'arretramento della ferrovia adriatica un opportuno provvedimento assunto dal gabinetto del sindaco e poi vediamo che la seconda pagina di Fano invece dedicata a Fossombrone il biker cade lungo il sentiero Agosti il verricello per il recupero del 118 e appunto l'ha fatto dall'alto calando con il verricello non ha potuto atterrare mentre a Fano un incidente stradale spettacolare urta un'auto in sosta e si ribalta su un fianco la carambola di un Opel condotta da una 82N portata a Torrette paura veramente paura ieri mattina in via Manara una strada senso unico nella zona dell'ospedale dove la tranquillità del giorno festivo è stata rotta di buon'ora dallo schianto di un'autovettura l'incidente è accaduto intorno alle 8 un'anziana di 82 anni ha perso il controllo della sua Opel Zaffira che conduceva mentre percorreva la via secondo il corretto senso di marcia senso unico l'auto prima ha urtato un autoveicolo in sosta quindi si è ribaltata sul fianco del posto di guida insomma probabilmente non è che andasse molto molto piano dato che l'urto appunto ha provocato il ribaltamento della strada della macchina per quanto riguarda Senigallia vediamo Summer si accende il cielo stellato l'esordio con 11.000 presenze posteggi introvabili immagino sulle lungomare in piazzale Morandi i parcheggiatori abusivi che devono addirittura 5 euro disagi sulla statale ebbene tanta tanta gente ha creato probabilmente qualche problema sul lungomare di Senigallia ma poi lo spettacolo valeva la pena di essere vissuto e quindi di incontrare anche qualche disagio sulle pagine pesaresi sulle pagine pesaresi vediamo ancora un ritorno per quanto riguarda l'assassinio di questo nigeriano di Alika parla la madre dell'omicida non pensavo che Filippo Ferlazzo stato di Filippo Ferlazzo fosse capace di questo è un operaio di 32 anni originario di Salerno l'abbiamo visto e invece la vittima è un mendicante nigeriano di 39 anni residente a San Severino oggi nel carcere di Montacuto si terrà l'udienza per la convalida del fermo davanti al GIP mentre domani mattina l'autopsia all'obitorio dell'ospedale di Civitanova nei confronti appunto della vittima e poi qua la stessa strada di Alica altra aggressione shock davanti agli smartphone un uomo picchiato spinto a terra e immobilizzato nessuno interviene giriamo ancora le pagine e parliamo di peste suina e danni ai campi ora c'è il piano anticinghiale lo ha varato l'assessore alla caccia Mirko Carloni la regione infatti ha approvato nuove misure come l'abbattimento del 50% degli esuberi dei capi di cinghiale l'assessore Carloni siamo di fronte ad un pericolo reale è necessario tutelarci ha dichiarato ebbene si parla di peste suina ma si parla anche dei danni che i cinghiali fanno nei campi nell'agricoltura sono soldi che veramente gli agricoltori perdono e quindi hanno bisogno di risarcimento la regione approva un piano per far fronte all'emergenza cinghiali tra le novità c'è l'ampliamento del periodo di caccia per risolvere la questione insieme all'incrimento delle braccate e all'abbattimento del 50% in più di capi dando la possibilità ai cosiddetti selecacciatori sono quelli che fanno la caccia per selezione di eliminare i cinghiali nei territori dove esercitano il prelievo venatorio di qualsiasi ungulato e vediamo anche verso il voto quali sono le candidature sciapichetti si sfila dalla corsa a Roma nel PD avanza Manzi Casini e Luciarini ebbene questo articolo parla un po' delle candidature di tutte le province marchigiane noi ci soffermiamo un attimo su quella di Pesaro a Pesaro i nomi forti sono quelli di Morani ed Andrea Biancani ci sono poi Danieli Vimini Micaele Vitri Luca Pieri Margherita Pedinelli Alessandro Piccini Rosetta Fulvi tutti del Partito Democratico Ancona cala il consigliere regionale Antonio Mastro Vincenzo ed il sindacalista Marco Ventivogli ma diversi voti vanno anche a Chantal Bonprezzi Maurizio Mangialardi Manuela Bora Michela Ballo Maria e a Fermo si punta invece su Verducci ebbene sono nomi abbastanza conosciuti e parliamo ancora di sanità guai a sprecare acqua ma il 30% dei comuni ancora non si è mosso sono almeno 16 le amministrazioni comunali che non hanno emesso i divieti per il territorio gestito dall'autorità d'ambito e un bacino di oltre 50 mila abitanti ebbene molti danni per l'agricoltura raccolto rischiamo lo stop buttando via i piccoli frutti i timori degli agricoltori della valle del foglia e dell'entroterra frutteti vigne uliveti e insomma i disastri sono veramente tanti la maggior parte degli agricoltori si troveranno nella condizione di sospendere il raccolto e buttare i frutti più piccoli che si sono essiccati al sole e non sono cresciuti pur di cercare di salvare le piante da frutto siamo in conclusione voglio completare la nostra rassegna stampa con l'immagine della vittoria di Villa Fastigi al Paglio dei Braceri e lei la contrada regina del Paglio vedete quante belle fotografie si pubblicano oggi sulla pagina del Corriere Adriatico si è giudicata la decima edizione nella Bolgia di Rocca Costanza la missa Alessia Galeazzi e con questo scampolo di tempo che mi rimane due titoli di sport ottimo l'impatto con mister Sassarini per quanto riguarda la vis Pesaro Davide Marcandella non nascondo le difficoltà dello scorso anno ora felice di poter restare a lungo qui mentre per quanto riguarda il Fano Mosconi ho visto belle cose contro il Gubbio il tecnico guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il K.O. di misura con gli Umbri e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 buona giornata l'intensi vi saluta quì vi saluta